Preferisco che tutti parano bene, questo significa che la squadra lo fa bene, ma sono tanti anni che so che dobbiamo fare il 100% e se lo facciamo dobbiamo essere tranquilli. Chiaramente siamo arrabbiati dopo la partita e come abbiamo subito il gol alla fine, ma subito un'altra partita credo che è fondamentale, molto positivo perché tutti vogliono farlo bene, tutti sanno la importanza della Champions, per tutta la gente che guarda, per i tifosi. Credo che sia molto positivo per noi avere questa possibilità, la squadra è una squadra che alena benissimo, i giocatori sono professionisti che lavorano al 100% e questo è un messaggio per tutti questi tifosi che dicono che noi facciamo il 100% e questi giocatori fanno il 100%. Con questa situazione sono molto tranquillo e affrontare questa partita sicuro che il 100% in campo sarà e dopo vediamo se possiamo avere un buon risultato. No, noi siamo concentrati sul lavoro, stiamo preparando benissimo questa partita, dall'esterno non interessa niente, adesso stiamo pensando solo ad Arsenal e speriamo di fare la nostra partita, di fare bene e di portare tre punti a casa e poi si vedrà se si può passare il turno o no. Però secondo me stiamo facendo una grandissima Champions, siamo in nove punti e non siamo ancora qualificati, che mi sembra un po' strano, però calcio è questa e niente, speriamo di fare bene e di fare contentare i nostri tifosi.